Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Sui canali social di Per Sempre News l'informazione sulla palla ovale. Oggi la puntata sarebbe dovuta andare con la nostra amica Laura Petrosino, la giocatrice di Serie A del Neapolis Rugby Femminile. Soltanto un problema tecnico, saluto affettuosamente Laura e vi rinnovo l'appuntamento con me e con Laura alla prossima puntata di Tutto Rugby per parlare del terzo match delle nostre azzurre nella seconda divisione del WXV quindi Italia contro USA. Partiamo. È in corso, ve lo ricordo, si sta per chiudere la Coppa del Mondo maschile, la RWC France 2023. Siamo arrivati alle finali. La finale terzo e quarto posto sarà giocata dalla Argentina contro Inghilterra domani il 27.10 alle ore 21. Ovviamente la diretta sarà su Sky Sport e in streaming su Now. Per l'Argentina ovale è la prima volta una finale nella Coppa del Mondo. La finale, primo e secondo posto, sarà giocata tra All Blacks, quindi Nuova Zelanda e Sud Africa. I sudafricani, ve lo ricordo, gli Springbok, sono i campioni del mondo in carica e si sono riconfermati anche in questo mondiale, sono comunque arrivati in finale. Ultima notizia, sempre per quanto riguarda la Coppa del Mondo maschile, World Rugby e tutte le federazioni si stanno impegnando ad aumentare le squadre partecipanti alla Coppa del Mondo. Già per la prossima Coppa del Mondo, quindi quella del 2027, verranno aumentati i gironi, si parla di due gironi in più, e il numero di squadre passerà da 20 a 24. Abbiamo detto le nostre azzurre, ve lo ricordo, i Taldonne, guidata la nostra nazionale femminile, guidata da Nanni Giovanni, da coach Giovanni Raineri, stanno giocando la prima edizione del WXV, esattamente due, quindi nella seconda divisione. Il nuovo torneo, il nuovissimo torneo, partito appunto quest'anno ad ottobre, voluto fortemente da World Rugby. Anche il secondo match, quello con le sudafricane, è stato vinto dalle nostre azzurre. I Taldonne batte le Springbok Women 36 a 18. Le sudafricane sicuramente erano molto molto fisiche, hanno impostato proprio il match sulla fisicità, sicuramente di pacchetto erano superiori, parlo proprio di peso. Qualche errore delle azzurre da parte di Endnig, quindi mi riferisco ai passaggi, ma le azzurre un po' come era capitato nel primo match contro il Giappone, partendo con i calci per liberare la loro 22, ma soprattutto giocando alla mano, quindi veri e propri passaggi alla mano, aprendo soprattutto sui tre quarti, sono riusciti a crearsi il varco necessario, i varchi necessari, imporre il proprio gioco e portare a casa questa partita. Anche in questo caso parliamo di vittoria, quindi un bottino di cinque punti. Parliamo quindi di vittoria e di bonus offensivo. Vanno a segno il nostro estremo, la Ostuni Minuzzi al quinto, la Muzzo va a segno al tredicesimo, la Ranuccini al ventiquattresimo. Al secondo tempo, esattamente al cinquantanonvesimo, va a metà la Vecchini, chiude la serie delle marcature, Alissa Dinka che va a segno al settantaquattresimo. Arrivano buone notizie per quanto riguarda la nostra nazionale, la nostra etaldonne, Valeria Fedrighi, proprio in questa partita, è stata nominata best performer. Ottanta minuti giocati, venticinque sostegni, quindici placcaggi, due palloni recuperati e il cento per cento di placcaggi completati. Ancora il capitano di giornata, Beatrice Rigoni, è stata nominata player of the match. Azzurri quindi l'abbiamo detto, seconda vittoria consecutiva e punto di bonus. In classifica sono al primo posto, al pari con la Scozia. che ha battuto 24 a 14 gli USA, gli Stati Uniti d'America. Ma in effetti sono comunque davanti alla Scozia per una migliore differenza di punti. Leggiamo un attimo la classifica di questo WXV, seconda divisione. l'Italia prima ha 10 punti, a più 31. La Scozia ha sempre 10 punti, ma più 24. Il Giappone è terzo, 5 punti, a più 9. Gli USA ha 5 punti, 0 come bonus. Samoa, un punto, a meno 32. chiude la classifica il Sud Africa a 0 punti e meno 32. Questo sabato, quindi tra poco meno di 24 ore, alle ore 17, sempre dal Sud Africa, ci sarà il terzo match. l'Italia contro gli USA, gli USA, gli USA, gli USA, li conosciamo, abbiamo già giocato altre volte, diciamo che non dovrebbe essere un match particolarmente difficile. Ovvio che i match si decidono tutti quanti all'ottantesimo minuto, vedremo come imposteranno le americane il loro gioco. auguri ovviamente alla nostra nazionale femminile. Quindi, altra notizia importante per quanto riguarda i tal donne, grazie a queste due vittorie, fanno un piccolo passettino in avanti nel ranking mondiale. Recuperano una posizione. Restiamo sempre nell'ambito femminile. Parliamo questa volta della nazionale Under 18 femminile diretta da coach Diego Sacca. Diego Sacca, appunto, ha convocato 33 atlete, le atlete nate nel 2006, per il raduno di Rimini che si terrà dal 27 al 29 di ottobre. Il raduno è in concomitanza alla festa del rugby che si giocherà a Rimini nel weekend dal 28 al 29 ottobre. Fa piacere sottolineare che c'è una napoletana tra le 33 convocate, Alessandra Amoruso, la figlia del nostro amico Ciccio La Corriera che salutiamo molto caldamente, del Neapolis Campania, Felix. Tanti sono i progetti per creare aggregazione, per far conoscere il nostro gioco, soprattutto ai più piccoli. Parlo del Leni Rugby Tour, che già è cominciato da una settimana. è il progetto dedicato alla promozione del gioco e ai suoi valori educativi attraverso un ricco programma ludico-sportivo. Sia per quanto riguarda la femminile che la maschile, parliamo delle under che vanno proprio dai più piccoli dall'under 6 fino all'under 12. Abbiamo detto che la prima tappa è già cominciata esattamente a Milano il 22 di ottobre. Il 5 di novembre è a Ravenna, il 12 novembre è a Mestre, il 3 dicembre è a Genova, l'11 febbraio è a Siracusa, il 25 febbraio è a Brindisi, si chiude a Roma l'Eni Rugby Tour il 20 di marzo. Vediamo un po' alle nostre franchigie, alle nostre franchigie, chiedo scusa, le zebbre e la Benetton Rugby. è partito il loro campionato, parliamo dell'URC, lo United Rugby Championship. La Benetton vince a Cardiff 23 a 22, per gli uomini di Bortolami e 4 punti preziosi. Per quanto riguarda le zebbre, perdono in casa a Parma, all'Anfranchi di Parma, un match dominato, ma conquistano comunque due punti di bonus offensivo, sono battuti da un Alster in rimonta 40 a 36. Sono ripartiti un po' tutti i campionati, quindi parlo della Serie A, della Serie B, della Serie C, i vari campionati regionali e ancora al palo per i motivi che abbiamo la nazionale femminile impegnata, ve lo ricordo, nel WXV seconda divisione, dove per quanto riguarda i nostri arbitri, c'è comunque l'azzurra, la nostra azzurra, Clara Munarini, che fa parte del gruppo arbitrale proprio lì in Sudafrica, dove stanno giocando le nostre azzurre. Dicevo quindi soltanto la Serie A femminile, la Serie A elite femminile è ancora ferma, aspettando quindi la chiusura del WXV e quindi il loro campionato partirà il 12 di novembre. Allora, Serie A elite maschile terza giornata, gli anticipi del sabato, CTAB Rugby Lions, Rangers Rugby Vicenza è finita a 27 a 12, Ballo Rugby Emilia, Colorno 15 a 19, due sempre i posticipi della domenica, Rugby Viadana, Rugby Rovigo Delta, 6 a 18, Petrarca Rugby Fiamme Oro, 30 a 25. Per quanto riguarda le Fiamme Oro, è il primo stop dopo due vittorie consecutive alla terza gara, alla terza giornata, vengono battute dal Petrarca che veniva anche lui da due pareggi consecutivi. Leggiamo un attimo la classifica, le Fiamme Oro rimangono ancora in testa a 10 punti, ancora in vetta alla classifica con 10 punti, seguiti del Lions e Vicenza a 9 punti, Rovigo a 8, Viadana a 7, Ballo Rugby 4 punti, il Vicenza a 1, chiude ancora la classifica il Mogliano con 0 punti. Piacenza, Ballo Rugby e Mogliano hanno ancora una partita da recuperare. sono state stabilite le formule e il calendario della Serie A Elite Cup che partirà il 26 di novembre per terminare il 12 di maggio. Cinque le squadre partecipanti, quindi Lions, Colorno, Fiamme Oro, Mogliano e Vicenza un girone unico. Alla fine del girone ovviamente verrà stabilita la vincitrice della Coppa. Chiudiamo il nostro discorso con la Campania Ovale. Domenica si è sceso in campo in regione. Allora, per quanto riguarda la Serie A, Rugby Livorno contro Napoli a Fragola 17 a 10. Non arriva ancora la vittoria per il nostro Napoli a Fragola che vi ricordo l'amatori rugby Napoli quindi che giocano al villaggio del rugby. Sempre una meta di scarto ma ci auguriamo insomma è soltanto la prima fase di partenza sicuramente arriverà a breve la vittoria per il nostro Napoli a Fragola. Per quanto riguarda la Serie B l'Aquila a Rechi è finita 63 a 5 Benevento Frascati 19 a 24 Serie C Rugby Clan Santa Maria Capoavetere quarto circolo Benevento Benevento 0 a 40 Polisportiva Parteno per Rugby Ammers Campobasso 27 a 5 Sono andati in campo anche i giovanissimi dell'Under 18 AP la Polisportiva Parteno per Taranto 72 a 0 Napoli a Fragola Tigri Bari 51 a 0 ed ancora i giovanissimi dell'Under 16 esattamente Under 16 fase regionale il derby Arechi Salerno contro Salerno 49 a 21 Black Knights Amatori Torre del Greco 5 a 30 Napoli a Fragola Partenope 87 a 7 Io vi ringrazio sempre per l'attenzione vi ricordo di nuovo il match delle nostre azzurre Italdonne contro USA dal Sudafrica il 27 alle ore 17 saremo sempre eseguiti dalla piattaforma Sky Sport ovviamente in streaming su Now Vi rinnovo ancora l'appuntamento con la nostra Laura Petrosino Serie femminile Neapolis Rugby femminile questa settimana hanno avuto una pausa hanno debuttato l'altra settimana pareggiando praticamente 12 a 12 contro l'Olympic Roma ripartiranno anche loro per quanto riguarda la Coppa Conference Elite femminile per oggi è tutto vi ringrazio come sempre per l'attenzione canali social di Per Sempre News seguiteci 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 come sempre testa bassa palla ben stretta l'obiettivo è la meta saluti o vali a tutti pigrazio per lesi no amici survei ciao า